L'elica, centro sperimentale aeronautico, l'obiettivo ha colto alcuni aspetti dinamici nel fervore di esperimenti del reparto esperienze motori. I motori in prova, muniti di eliche sperimentali adagiate su cavalletti orientabili, sono sottoposti a severi giudizi di collaudo nelle varie posizioni che verranno ad assumere durante il volo. In una speciale costruzione, l'elica, ala propulsiva e vorticosa che anima il velivolo e spazza l'aria con assordante fragore, viene provata al banco, azionata da due potenti motori di 1000 cavalli l'uno. Le prove si effettuano su eliche con pale fisse e con pale a passo variabile, per studiarne la resistenza ai fini soprattutto della sicurezza del volo. Grazie per la visione!